buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi da ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola risponderò ad una signora la quale sta usando da qualche giorno l'audio mp3 dcs di ipnosi dcs vera e professionale dal titolo no depressione la quale signora seguendo la lettera e le istruzioni meno male dice mi stanno mi sono spariti anche i dolori è possibile che con un audio mp3 con suggestioni potenti e trasparenti naturali create ad arte ad hoc lo stavo dicendo in francese possa eliminare i dolori la risposta è sì signora sì perché dalla mente esce tutto anche il dolore la sofferenza e aggiungo anche le maladie le maladie le maladie che deriva dal francese maladie il mal ha detto cosa ti ha detto il male cosa ti dice ma riflettiamo un attimo no con la logica quando perché purtroppo nell'occidente materialista non tutti afferrano il concetto che la parola guarisce la parola ammazza la parola arricchisce la parola impoverisce non tutti per non dire la stragrande maggioranza su 100 persone 99 non lo afferrano questo concetto soltanto una persona su 100 riesce ad afferrarlo anche chi segue il pensiero positivo tante volte non afferra che bisogna convincere non la coscienza la logica la razionalità la critica il 12 per cento della tua mente ma il tuo subcosciente il tuo pilota automatico la il genio della tua lampada di aladino il tuo subcosciente che l'88 per cento della mente dove è deputata anche tutto ciò che riguarda il funzionamento del tuo corpo i nervi i muscoli gli organi le ghiandole per cui tutto da lì esce ragazzi per cui è normale che quando si utilizza un audio mp3 dcs dal titolo no depressione ma anche altri titoli come no passato negativa perché ha sensi di colpa trauma i ricordi brutti che nessun farmaco riesce a cancellare nessuna disciplina riesce a debellare e ti rimbombano nella testa oppure no panico no ansie ipno dieta qualsiasi cosa bene tu hai degli effetti positivi oppure ego entusiasmo per chi ha le gomme un po sgonfie come autostima eccetera eccetera come energia bene hanno degli effetti accessori collaterali positivi dai dolori o io ho aiutato persone le quali per un motivo e poi gli sono spariti i dolori alle mani che avevano che avevano dolore alle mani da tanti anni alle gambe alla schiena eccetera eccetera una cosa non esclude l'altra perché magari la causa del loro dolore e del loro limite era quella famosa parola e quindi utilizzando sulla montagna un antidoto all'omino che punta spazzatura valle che il tuo corpo bene tu vedrà l'acqua sempre pulita in soltanto da un lato da un angolo ma da più angoli ok non è un modo di dire per cui cara signora la ringrazio continui perseveri le ho suggerito siccome il mio metodo dicesse non richiede il tempo non richiede il tuo tempo nel tempo non ti dice di rubare il tempo a te stesso oppure a te stessa e ai tuoi cari la tua famiglia perché non devi metterti la famosa tuta e andare in palestra e perdere tre ore tra la doccia andare e venire con la macchina spendere una barca di soldi eccetera eccetera bene siccome il mio metodo dicesse di auto di plus dicesse vera e professionale è un metodo no time no tempo che non ti fa mettere le cuffie che non ti rompe che non disturba il tuo vivere non ti stresse a prova di nonno a prova di pigro a prova di e idiota possiamo dire se segue la lettera alle istruzioni bene tu lo utilizzerai quando avrai bisogno ok quindi non è minimo 30 giorni 60 giorni un secondo due secondi ci sono state persone che dalla da un giorno all'altro hanno risolto il loro problema ci sono altre persone che hanno messo un po di più per cui siccome non si richiede il tempo persevera questo del trucco persevera perché le suggestioni la mia voce le mie parole hanno una valenza e sono fatte ad arte ad hoc per rispettare il principio del gutta cavat lapidem significa la goccia tieni presente la goccia nell'arco dei secoli trasforma qualsiasi roccia qualsiasi dolore qualsiasi problema in sabbia lo fa sfumare è quel potere quindi c'è chi ci mette di più c'è chi ci mette di meno ma siccome non ti toglie tempo che te frega continua 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 a me piace perché c'è anche quella parte di ego che mi contraddistingue mi piace che le persone stiano bene perché questa è la mia missione infatti non mi occupo direttamente di vendite o delegato ho affidato delle concessionarie in tutto il mondo i miei diritti depositati a livello internazionale perché se voglio abbracciare più gente possibile il sottoscritto non può occuparsi di tutto va bene perché come ripeto ancora una volta ho molta attività in italia all'estero non posso fare tutto ecco perché anche le mie sessioni online su skype soprattutto ma anche su altre app sono sospese al momento e faccio solo sessioni online va bene ed ho in progetto anche di creare dei corsi per diffondere il mio metodo a più gente possibile poi chi si occupa in base al paese di un tema tipo il medico lo psicologo la crescita personale eccetera eccetera utilizzerà il mio corso in questo caso videocorso per i suoi obiettivi però ricordo di questo metodo dicesse di auto ipnosi e dipnosi dicesse vera e professionale non ha uguali nel mondo e lo vedrete prossimamente perché parlerò anche più in dettaglio di questo grandissimo metodo che deriva da los angeles beverly hills da hollywood dalla dottoressa lina brunini del professor dottor michelang legara ai due grandi terapeuti clinici che tu trovi anche su internet su youtube sono dei video un po datati però molto molto indicativi di ciò che la mente della persona può fare su casi anche impossibili come autismo epilessia paralisi io ho salvato mio padre grazie alla dottoressa lina brunini nel 2008 su skype online con un computer ciofe con una connessione ciofe cali ho fatto così io da ipnotista autodidatta mi sono veramente dopo aver fatto letto mille libri eccetera eccetera mi sono veramente meravigliato che lì inizia dalla mia avventura e mi trovo qui dopo dieci anni a filmarmi per parlare di questo metodo dcs molto conosciuto hollywood los angeles beverly hills ma anche in america latino ma poco da queste parti e che dall'occidente sviluppato e opulento e non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale pur avendo un grande affetto credendo nella bontà ma non tutto ciò che pubblicizzato ai massimi livelli è la verità non plus ultra per me il metodo dcs di pros dcs vera professionale di los angeles beverly hills e il non plus ultra va bene fammi tutte le domande del caso risponderò gratis gratis compatibilmente ai miei tempi mi impegni anche la più stupida la più banale fammela queste sante domande come fa tanta gente io ti risponderò gratis se le hai provate tutte senza risultati e poi ricordati che il metodo dcs anna reca porta vantaggi benefici anche al tuo caro che magari si droga si alcolizza si ubriaca e depresso e buttato davanti alla tv è sempre nel letto e chiusi in casa non ne vuole sapere del tuo aiuto di andare in giro presso cura a farsi aiutare bene il mio metodo se seguire l'istruzione ripeto facilissime nell'uso a prova di nonna prova di piccolo prova di idiota porteranno il tuo caro a cambiare rotta come è successo a tantissime persone a los angeles ma anche in tutto il mondo ok quindi non devi credere devi fare ricordati che l'ipnosi riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale e dalla chiesa documentati vedrai che così fammi tutte le domande del caso ti rispondo gratis e visita la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologi associati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dc se il dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che può fargli cambiare vita e se come anche su instagram e twitter un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima